25 aprile 2021, una ricorrenza importante, una festa nazionale, la festa della nostra nazione, dell'Italia, liberata dagli invasori, fondamentalmente sancisce la fine di una grande guerra che ha travagliato il nostro paese, per cui il nostro paese ha sofferto. La festa del 25 aprile dovrebbe essere una festa molto sentita, molto valorizzata, non solo dagli italiani, ma una festa che rappresenta fondamentalmente, intrinsecamente, i valori di libertà ed autonomia a cui tutti i paesi del mondo devono ambire, devono auspicare e una volta raggiunti devono mantenere. Noi, Università Popolare degli Studi di Milano, siamo in perfetta linea di continuità con la nostra tradizione storica che ci porta a riconoscere nel valore della libertà uno dei valori assoluti che preserviamo e trasmettiamo sempre in ogni nostro sentimento e in ogni nostra manifestazione. Auguri!